Buongiornissimo raga! No, non sono scomparsa, sono ancora viva, ma sono stata veramente malissimo. Vi giuro, non mi ricordo di essere stata così male negli ultimi dieci anni. Ho avuto la febbre a 40, la bronchite, sono stata nel letto letteralmente 24H per 3-4 giorni, insomma, tutto il tempo in cui sono stata inattiva. Domenica, dopo aver scattato l'ultimo outfit, sono tornata a casa, mi sono messa nel letto e non mi sono praticamente più rialzata fino ad oggi, in realtà fino a ieri sera. Sicuramente tutto ciò non a caso, perché io e Paolo abbiamo avuto la brillantissima idea di spostarci in Fashion Week sempre con il motorino e avevo degli outfit sempre abbastanza primaverili. Quindi ho preso una quantità di freddo allucinante e mi è venuto questo febbrone da pazzi, la bronchite, cioè veramente sono stata malissimo. Adesso mi sto piano piano riprendendo con argomenti in tachipirine, medicine varie, però appunto sto un po' meglio. E finalmente mi sono deciso ad alzarmi, perché fosse stato per me sarei rimasta a poltrire nel letto, ma in questo modo non mi sarei mai più ripresa. Quindi ho ripreso anche un attimo a mangiare, perché in questi giorni veramente non avevo la forza di fare nulla e non avevo assolutamente voglia di mangiare, però se avessi continuato a non mangiare sarei rimasta ancora di più senza forze. Quindi mi sono obbligata e adesso piano piano mi sto riprendendo. Comunque visto che Webbo mi ha candidata per i Webbo Awards, anzi voi mi avete candidata per i Webbo Awards, nella categoria Best Value. Quindi se vi va andatemi a votare, vi lascio qui il link e adesso andiamo a ripercorrere un po' insieme tutti gli outfit che ho fatto alla Fashion Week, perché nonostante si sia conclusa così, con il febbrone e la bronchite, è stata una settimana veramente splendida, piena di emozioni. Devo ringraziare tantissimo la mia fotografa, Alice, che ha fatto delle foto pazzesche e Daniele per tutti gli outfit che ha ideato, che sono veramente secondo me uno più bello dell'altro. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate anche voi. Adesso vi posto tutta la carrellata degli outfit della Fashion Week e decidiamo insieme qual è il più bello. Devo dire che sono un po' in difficoltà perché mi piacciono tutti, però mi farete sapere anche voi. Tra l'altro durante la scorsa settimana ho fatto molte più storie rispetto al mio solito, perché ho incontrato una ragazza vicino all'università che mi ha detto di fare più storie, cioè le ho chiesto se preferisse vedere più storie o meno. Lei mi ha detto assolutamente di più e in realtà io pensavo che vi annoiassero troppe storie, quindi continuerò assolutamente su questa linea, ho visto che avete apprezzato. E nulla, passiamo alla carrellata degli outfit. Grazie. Grazie.